Ciao a tutti ragazzi, bello, e bello ragazzi qua da ShadowPiliPi che vi parlo, vi saluto vi farò una challenge, devo vincere una partita di sumo con dei tipi di click quindi normal click, bat play click, cheat click e drag click non sono capace a fare quindi farò molta fatica con i drag click quindi preparatevi gli sclerii che è bello 5-6 gps, non c'è altro mai ho poca in quando facciamo il click, ma questo è scarso, questo è scarso, questo è scarso si muove tanto ma non è capace a non prendere nome ce la posso fare? Si! Ce l'ho fatta normal click fatto ora faccio i tipi di click normali faccio sempre, fatto play, cheat click e poi c'è il drag click secondo tipo di click, bat play click ce la devo fare ho distrutto, ho distrutto, ho distrutto GG, ho distrutto ora il mio click, cheat click tranquillo, cheat click click è il mio click quindi non dovrebbe essere tanto difficile ma qua sotto ho dovuto allergi più potenti però io sono più potente niente adesso gravi c'è progetto ok ma adesso c'è un tipo di palli che si muove oh sono quasi ci sono quasi ci sono quasi oh questo è un tipo di palli che si muove ci sono quasi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti